Buongiorno, il Dipartimento di Scienze Politiche è una comunità di studenti, docenti, personali tecnico e amministrativo che giorno dopo giorno lavora e sviluppa attività di ricerca e di formazione delle nuove generazioni. Su che cosa lavora Scienze Politiche? Quali sono i temi che vengono studiati e su cui si fa ricerca? Le nostre società contemporanee, come sono organizzate, come funzionano, quali fenomeni vi si osservano e soprattutto quali sono gli strumenti per governare questi fenomeni e per governare il cambiamento che la realtà continuamente ci propone, soprattutto attraverso lo strumento principe che è la politica. Che poi la qualità della formazione e della ricerca sia di elevato livello lo testimonia il fatto che il Ministero ha riconosciuto al nostro Dipartimento il titolo di Dipartimento di Eccellenza. È uno dei 180 Dipartimenti di Eccellenza con un finanziamento che ci consente di sviluppare un progetto con cui possiamo offrire borse di studi agli studenti meritevoli, attivare nuove forme di didattica e offrire agli studenti l'incontro con docenti provenienti dall'estero attraverso, di Chiara Fama, attraverso il programma di Visiting Professor che abbiamo attivato. Ecco, l'augurio che vi faccio è quello di fare una scelta migliore possibile per il vostro futuro e se vorrete scegliere i corsi del Dipartimento di Scienze Politiche saremo felici di accogliervi e di lavorare con voi.